10 secondi 5 secondi 5 4, 3, 2, 1 5 5 6 7 8 9 10 10 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 20 17 18 21 22 22 23 23 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 28 29 29 30 Io mi proposto di mischiace. Grazie. 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 Grazie.